Per conto adesso una bella storia qui a Borgoratto Mormorolo è quello di Alessandro e di Claudia che ci stanno ospitando nella loro bella abitazione che da qualche anno è diventato davvero un punto di riferimento anche per la loro attività. Alessandro è un attore di teatro, sono entrambi milanesi da quello che ho capito, hanno lavorato nell'ambito della comunicazione per diversi anni poi hanno deciso di cambiare radicalmente vita e di trasferirsi sulle colline dell'oltrepo pavese. Una scelta di campo e di vita, dico bene? Una scelta sicuramente radicale perché in poco tempo, in un'ora, ci sembra di essere veramente su un altro pianeta ed è questa la cosa che ci è piaciuta di più. Siamo venuti la prima volta con l'idea di rimanere qui solo magari qualche giorno e poi adesso ormai sono diventati anni e questa è assolutamente la nostra casa. Ci siamo organizzati per continuare comunque a fare le nostre attività, anzi abbiamo avuto occasione di farlo anche in questa zona per il comune di Borgoratto, per quello di Fortunago, comunque qui all'interno dell'oltrepo e qua possiamo anche ospitare degli artisti, delle compagnie in vista magari di spettacoli anche nei teatri di Milano. Quindi siamo assolutamente contenti e soddisfatti di questa scelta. Grazie mille ad Alessandro, grazie mille a Claudia, soprattutto per l'ospitalità e soprattutto per averci dato un insegnamento che anche i piccoli borghi come questo possono vivere, possono vivere anche grazie a chi arriva da lontano e si insedia a voglia di fare, bravissimi. Grazie, grazie mille.